Questo chevron è la trasformazione di una tecnica in un punto. Ho preso l'aumento decorativo stellino del video precedente, ho aggiunto agli aumenti altrettante diminuzioni e ho inserito delle maglie in mezzo, due e due. E così è venuto fuori questo chevron su dodici maglie e due ferri, dove il secondo ferro, il ferro di ritorno, è lavorato semplicemente a rovescio. Avvio quindi un multiplo di dodici più due maglie di divagno, faccio una diminuzione con l'inclinazione a destra, due diritti, un aumento stellina che si lavora lavorando tre volte due maglie. Mi assicuro che sulla destra le maglie siano rivolte con la parte destra verso di me. Le prendo da davanti, le lavoro insieme a diritto, faccio un gettato e di nuovo insieme a diritto. Le lascio cadere dal ferro e a sinistra simmetricamente. Dispongo le maglie in modo che la parte sinistra sia rivolta verso di me, le prendo da dietro e le lavoro insieme a diritto, poi un gettato e insieme a diritto. Due diritti e la diminuzione che è a sinistra e inclinata verso sinistra. La posso fare per esempio con una cavallata oppure girando le maglie e da capo una diminuzione con l'inclinazione a destra, due diritti, due insieme a diritto prese da davanti, un gettato e di nuovo insieme a diritto, due insieme a diritto prese da dietro, e una diminuzione con l'inclinazione a sinistra. Fatta la maglia di divagno, giro il lavoro e torno lavorando tutto a rovescio. Si può fare una cosa analoga anche con le doppie stelline, con i doppi aumenti. Per non appesantire il punto è meglio farlo sviluppare su quattro ferri. Al primo ferro, fatta la maglia di divagno, come prima, faccio una diminuzione singola, lavorando due insieme a diritto, con l'inclinazione a destra. Poi un solo diritto, poi lavoro tre insieme a diritto, poi un gettato, di nuovo tre insieme a diritto, un gettato, e tre insieme a diritto. Dall'altra parte, simmetricamente, lavoro tre insieme a diritto, però le prendo da dietro e perciò giro le maglie, a meno che non abbia già le maglie estern, in modo da non averle ritorte. tre insieme a diritto, gettato, tre insieme a diritto, gettato, e tre insieme a diritto. Un diritto e una diminuzione con l'inclinazione a sinistra. quindi sulla destra una diminuzione con l'inclinazione a destra, un diritto, tre maglie lavorate insieme cinque volte prese da davanti, diritto, gettato, diritto, gettato, diritto, nella seconda parte sulla sinistra, tre insieme, prese da dietro, diritto, gettato, diritto, gettato, diritto, un diritto, una diminuzione con l'inclinazione a sinistra. Torno poi indietro lavorando a rovescio al terzo ferro, dato che al primo ferro avevo fatto i doppi aumenti, non faccio più gli aumenti ma solo le diminuzioni. Quindi all'inizio del motivo una diminuzione, tutto il resto semplicemente a diritto, in questo caso sono otto maglie e le ultime due maglie faccio una cavallata o due insieme a diritto girate verso sinistra, insomma, all'inizio una diminuzione, tutto il resto a diritto, e alla fine un'altra diminuzione. Così queste due diminuzioni controbilanciano anche se in un secondo momento le doppie diminuzioni fatte al primo ferro. Tornate indietro lavorando a rovescio ottengo questo risultato. Chi usa i ferri circolari farà il secondo giro a diritto. I giri dispari non cambiano. Questa era la versione concentrata del punto. Naturalmente possiamo inserire tra la diminuzione e l'aumento quante maglie vogliamo, così il punto sarà più largo, più leggero, forse meno ad effetto, però più facile da lavorare.